Tra le conseguenze di carattere economico causate dalla pandemia c'è anche l'aumento delle domande di reddito di cittadinanza, un vero e proprio boom per il piacentino che ha fatto registrare un incremento del 38,6%, il più alto in regione. Il dato emerge dall'indagine condotta dall'osservatorio sull'economia e il lavoro nella città metropolitana di Bologna a cura dell'IRES nel quale la CGL evidenzia che per l'intera regione l'aumento della richiesta dei sussidi indica come l'emergenza sanitaria l'anno scorso abbia avuto profonde ricadute sociali e tra queste anche un significativo aumento della povertà. L'aumento meno consistente a Forlicesena, dove è comunque di quasi il 23%, su una media regionale del 34,5%. Lo studio evidenzia che il fermo delle diverse attività e di larga parte dei mercati si è inevitabilmente trasmesso all'occupazione. Da qui l'aumento della domanda di richieste di sussidi.